Allora, buongiorno, buonasera, o qualunque cosa avesse di vivere in questo momento, in questo video ci è stato richiesto di fare un nuovo yoga challenge, in questo video, faremo la yoga challenge per voi Allora, prima che il video inizi, mettete like, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti del video e commentate sotto se volete altri video yoga challenge o video del genere Iniziamo! Quale posizione hai trovato? Io ho un'altra tappa Questa è facile Io sto sotto Proviamo questa Vai, non mi cadere addosso però Fai attenzione almeno Oddio, aspetta Le gambe devono essere distese? Sì E mo? Ecco, sì E tu neanche ti vedi? Devi allontanare Sì Allontana tutto Allora Vabbè Vabbè Questa l'abbiamo fatta Vabbè Così, eh Eh, ma è facile Cioè, devo C'erano io Allora, puoi? Poi Qualcun altro in cui io sto disteso Ah, questo Dai Come facciamo? Eh, questo è il problema Ma com'è? Ok, no Tu stai male Cioè, io ti dovrei mettere Io non mi lasco neanche a stenderlo in piedi E mo? Allora, facciamo tipo Livello base Giorda, però devi Facciamo questo Vai No, è facile Dai, proprio È troppo facile Dai Facciamo questo Facciamo questo Ok Io faccio Ecco La posizione del bambino Vai Vai, parti Allora Oh, aspetta Non me la ricordo Ah Devo mettermi Quelli sono i miei piedi Devo mettermi così Aia Dove cazzo sono le mie mani? Che devo fare con le mani? Ah Eda Adesso, dovevi tirare? E filmalo Che devo fare? Allora Devi riludere e filmalo Ok Vai Allora Vai Così Aia L'abbiamo fatto Aspetta Perché Va bene Un po' Ah, io la schiena Ok Ok, facciamo questo Io sto sempre sotto Guarda questo Guarda questo Ma io che devo fare? Allora, guarda Ok Io devo tenerti le gambe E sto di qui Così Questo Come devo stare io? Con la testa Se i miei piedi Le gambe qua Le gambe qua Il culo qua Quindi Al contrario Le gambe di qua Mari Marcellino quando deve pisciare Al contrario Ma come è il culo qua? E tu lo qua Ho capito come Così Io ti devo dire Aia Aia Ah no 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 Non ti ho fatto Il culo che mi stai qua Ehi Non ti ho fatto Non vedete che mi diceva Siamo fatta in due Allora, ora faremo Maria piange molto L'ha detto pure lei Eccola Non so perché faccio Oddio, posso sedere? No, ok Io non so distendere le gambe No, mi fanno male E sto io sotto? No Vabbè, dai Sono troppo comodo Dai, vai Tu devi sedere sui miei piedi E cominciare a rinni, scusami Abbassati Mi posso dire Mi posizionare bene No, mi fanno No, mi fanno No, mi fanno No, mi fanno Mi fanno No 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 Dai, mi fanno male Aiuto Aiuto Dai, mi fanno male Ma io stai facendo l'acqua Non ce la facciamo Dai, proprio Oh, Dio mio Oh, Dio mio Mi sto sentendo male Ora farei Questo Questo Allora, io devo fare Aiuto Dai, mi abbasso un doppio giunto Sì, ti vedi Devo andare sulla tua schiena Qua Poi qua Già, ma sei troppo corto Ah, ah 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 Che bello, ho smeditato un pizzicotto alla gorgia. Io? Riprova. Ah, devo riprovare? Non ho visto che ci sei riuscita. Sì, ci siamo riuscita. Hai perduto. Hai polmoni. Hai la cocce. Hai tirato un pizzicotto. Non volevo. Allora, ora. Ora. Oh, che fatica. Oddio mio. Oddio. L'abbiamo metato? Sì, ma mi sa che non ci siamo riusciti. Ci voglio la giurla? Vai. Ah, spera, ma la devo provare? Sì. Oh no, l'ho persa. Dai. Porco. Pravina è un'altra. Eccola. E' questo. Vai. Non ce la facciamo. Gio, io cado indietro. E reggiti. Dammi. Vai indietro. Vai reggiti. Vado indietro. Vai Gio, vai. Non ce la facciamo. Vai. Pronto. Pronto. Non lo sargo. Mi voressi lasciare. Che botta che facevi. Madonna. Io. Io tiro. Hai questa. Dai, però. Stanno uscendo tutte bene. Quale... Io sto qua la sopra. Tu mi l'hai tirata. Ok, vai. Devo stare... Io sto già di qua. Ah, scusami. Vai. Ora devi tirare. No. Io... Ok, esco qua. Dai. Pronta? Oddio, pronta! Ho sputato! Sono morta! No, 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 no! Sì, è stato diffuso! Cazza! Io voglio vedere i replay. Mi piacere. Perché dovevamo l'azzare. No, no. Sono andata contro... Contro la cosa. Questo no, eh. Allora, ora faremo. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Dudu, dudu. Dai, su! Allora, fra... Eh, ma questo è difficile. Tanto è difficile. E niente. Abbiamo la prova da fare questa cosa? Penso di no. Non lo so. Mi ricordo. Proviamo, dai. Dai. È questo. Tu devi mettere i piedi, le mani qua. Vai. Oddio. Che cosa faccio? Ah, io già sono le camiglie, mi rendo male. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Tu devi mettere i piedi, le mani qua? No. E com'è? Ah, tu mi metti, guarda. Tu devi mettere, tu mi devi tenere i piedi. C'è le camiglie. Ma alzate? Ligna faccio. Sì, poi io mi devo tenere con le sue gambe qua. Così? Oddio mio, quindi tu devi stare qua. Sì. Oh, eh, già, non ce la facciamo. Ah, guarda. Già, non ce la facciamo. Già, non ce la facciamo. Vuoi cambiare? Sì. Già, tu cadi. Allora, una di mela. Una di mela. Ma non c'è stato qualcosa che stai dicendo? Tu, questo l'abbiamo mai fatto? Sì. Facciamo questo. Dai, facciamolo. Ecco. Dai. Allora, io so così. Tu devi spasotto nello stesso modo. No, 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 nello stesso modo. Tu hai col culo verso il mio. Esatto, quindi devo fare così. Oddio, non mi, non... Ma non ci capo? Non ci capo? Non ci capo? È un mio capo piccola. Oddio mio. Non ci capo. Tu stavi lì sotto il tifo, no? Che si fa? Oddio. Allora. Oddio. Oddio mio. Ok. Sì, suona. Allora, proviamo a fare questo. Vabbè, non è di compio, però... Io ne potevo farlo. È questo. Sai com'è? Qua? Allora. Sargia, devi vedere la mia poltrona. Devi fare così, poi così. Aspetta, va. Questo deve essere passato, ok? Chiudi. Questo. Il crambo! La testa deve toccare. Aspetta. Ma un po' ci sto, però, eh? Aspetta. 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 No, no. Pianzo la gamba. Pianzo la gamba. Tu me la devi la testa. Dai, pronta? Vai. 3, 2, 1. Ah! Ma cosa stai? No, devo riprovarci, vai. 3, 2, 1. Dai! Mi hai riportato? Sì? Sì? Cioè, la tua mamma è tipo... Dai, ora ti devo provare. No, io mi hai mostrato un po' vecchia queste cose. Fammi dire? No, Gianni. Io mi faccio, Sara. Levati un po'. Prova a fare questa cosa. Vabbè, sì. E? Così? No, le mani così. No! Questo dietro? Ok. Mi sono andato a ricambio che devono stare più aperte. Oh, codici, che dolore. Oddio, mio, che dolore. Oddio! Ora prova a fare... Ah! Questo. Uff. Ma tu stai male. Questo. Ma come facciamo? E' fatica. Va bene? Sì, Giorgia. Così si fa. Vai con vita. Oddio mio. Ma non ho capito. Ma no, ma questo sarebbe stato qua. Ma come cazzo mi recco? Scusami, ecco. Non mi... 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 Un piede così? No, stai già sbagliando perché l'incontrari. Ah, così? No. Tu stai di là, tu. Ah, non sta di là? Sì, perché se no non ce la fai. Non lo vedo così. Quale piede... Ah, ok. Quale piede lo mette? Allora, questo è stato avanti. No, stai, guardami. No, questo è stato avanti. E' questa che sta... Dammi questa. Ah, vedi? Vai, vai, vai! Vai, via, vai! Oddio, mia. E ti piacevissimo! E lo so! Vai, prova a fare sempre. Ma ti è successo ancora a te? Non è ordinato. Oh, no. Levati. Mi levo. Neanche questa riusciamo a fare. Aspettate. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Questo è il mio massimo. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Oh! La gamba, la gamba, la gamba. Non ce la faccio, Giada. C'è tutto questo di distanza. Dai, Giada. Dai, 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 dai. Dai. Di più, di più. Non ce la faccio. C'è così tanta di distanza. Così tanta. Oh, c'è tutto qua. Ma che buttano. Vabbè. C'è qualcos'altro di semplice? Vabbè, c'è... Questo, ma nel game. E ce la faccio. Questo ce la faccio. È così. Guardate lì. Voglio allungare il... Allora, il video è finito qui. Se io con lei siamo distrutte. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che almeno voi vi siate divertiti. Vabbè, anche noi ci siamo divertite. Solo che adesso fa male tutto. Perché abbiamo fatto tutto senza riscaldamento. Già, è il disco. Vabbè, mettete like, iscrivetevi al canale. Per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del video. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ve la saluta? Ciao! Ciao!